cioè saranno tre mesi che sta puntando più di questo cimitero una fermata navetta e di preciso non so spiegare siamo vicino alla al campo degli eroi questa è la puntanella laggiù c'è il milito ignoro questa è la puntanella sono tre mesi che è così a massimo questa è chiusa così è chiusa apro a massimo questa è da sempre non è che manca l'acqua cioè saranno tre mesi che sta puntando più di questo cimitero una fermata navetta e di preciso non so spiegare siamo vicino alla al campo degli eroi questa è la puntanella laggiù c'è il milito ignoro adesso questa puntanella questa è la puntana del cielo sono tre mesi che così al massimo questo è chiusa così è chiusa apro al massimo queste da sempre non è che manca l'acqua